Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo quarto appuntamento con Tomb Raider La durata di questa quarta parte è diventata un po' lunghetta ma non trovo il punto giusto per fermarlo Ricordo ancora a tutti che questa è la prima volta che gioco quindi Abbiate pietà se mi perdo qualche volta in giro perché non conosco le missioni Il tipo di sistema di mira anche con l'arco non è facile quindi te ne tenete conto Ora vi lascio gustare il gioco, buon gaming, ciao Cos'altro scopriremo? Ci aspettano scoperte eccezionali Se riusciremo a raccontarle Incredibile! È i Mico! Ma guarda, la ciotola, le candele, perché continuano a venerarla? Quest'isola doveva far parte di Yamatai, avevi ragione Lara Il regno perduto È come trovare Atlantide Con la sola differenza che è reale, non è un mito No, questa è una miniera d'oro Venite, presto! I vostri amici stanno male Già, forse a causa loro Indietro Non c'è da fidarsi Sei ancora armato? Non voglio guai No Vi seguiremo No Ma solo se promettete che ci condurrete dal vostro capo Che stai facendo? Taci No Ci penso io No 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 Lasciatemi No Vai, vai con loro, Lara No Vai, come dicono Dai mi pistolet Иди Poshla Chi siete? Cosa volete da voi? Lara Asculta scusate, macchi Lasciateli stare, ti prego Chi Я сказал A tu ведь Хорошенькая, da? Напоминаешь Mođu sestru Oh no! No Acrugite 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 Ehi, prendi la prigioniera Piano Va bene, subito Piano Allora Allora cercala Oddio Ogni l'ora è caduta in trappola Non ti fai guardare Non ti fai guardare Non lo rafforciamo agli altri Volerti Questi sono E la uccideremo Peccato, ci servirebbero no Va bene Vedi qualcuno? Non ti fai guardare? 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 Ehi, ti! Forè? Putla Per andare Piano Non ti fai guardare? Non mi senti, non mi senti. Non mi senti. Ania era una strada perciata. Ah! 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 Oh, Dio! Ah! 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 Ah C'è qualcun altro! Senta giù di là! Non so! Premiera, vieni subito fuori! Non puoi sfuggirci! È armata! Lasciatemi in pace! Non so! Ho trovato qualcosa? Ho trovato qualcosa? Guarda mia! Accediamola! Morirai carbonizzata! C'è! Ehi, laggiù avete trovato qualcuno! Ehi, laggiù avete trovato! Da fogli, cellulare roto, solita faccia. Cos'era, un'altra petroliera? No, sembrava una nave scientifica. Potrebbe esserci roba buona. Lo scopriremo presto. La stanno già ispezionando. Ma che... Mersa! Oh merda, stai bene! Aiuto! Che succede laggiù? Tutto bene? Escavola! Oh no! Oh, no. Lara, mi senti? Sì. Vedo del fumo che si alza dalle rovine. Stai bene? Oh, Dio. Sono nei guai, Ruth. Ammazzano la gente. Cosa? Chi? Uomini. Non so perché. Ne ho uccisi alcuni. Non ho avuto scelta. Non deve essere stato facile. Invece non sai quando. Devi avvertire gli altri, rotta. Per adesso non pensare a loro. Hai il possibile per raggiungermi, Lara. Ci proverò. E oggi è venuto da tua raggiunga. È così. T'ora. Non vuoi? Quindi, la sua raggiungi. Non vuoi? Una specie di contenitore. Chi li avrà lasciati? Per quanto siano terribili, prima o poi ci si risveglia dagli incubi. Ma questo sembra non finire. Vuol dire che non è un incubo. E sono davvero qui a fare queste cose. No, non pensarci, Lara. Non adesso. Non serve. Non so che fine abbia fatto il resto dell'equipaggio. Però stiano bene. Devono star bene. Devono. Non capisco cosa stia succedendo in questo posto. L'importante è che Rot trovi il modo di riportarci tutti a casa. Grazie. 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 M'hanno chiamato dalla spiaggia Ovest. Un gruppetto è sfuggito nella foresta a ballo. Potremmo mandare qualcuno a cercarli. Che è andato padre Mattias. Ha detto di stare alla larga. Eh? Perché? Non so. Mi sembrava un altro. Sentito? Mmm. Veniva da lì. Mi serve aiuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla prossima! Ah, merda! E' qui dentro, tra il diavola. Viva o morta? Morta. La spina del piano. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie al cielo ancora a te. Impronte di lupi. Cosa sto facendo? Lo zaino è là dentro. Ciao a tutti da GeneticDNA. Ciao a tutti.